Si chiama Rebo ed è il progetto che con una bottiglia vuole aiutare a pulire il pianeta. L'iniziativa è di una giovane start-up che sta per lanciare un'innovativa bottiglia capace di monitorare il consumo di acqua e tradurre ogni sorsata, grazie a partner privati e fondazioni, in aiuti per persone indigenti in regioni del mondo come Indonesia, Filippina e Brasile, impegnate nella raccolta di rifiuti plastici grazie anche alla partnership con Plastic Bank, organizzazione che lavora per la loro riduzione. Tra i giovani impegnati nel progetto della bottiglia Rebo, il Pistoiese e Fabio Mancini. Si connette tramite bluetooth ad un'app su smartphone e va a generare dei crediti verdi che poi vengono venduti a degli sponsor privati e quindi con i fondi che si raccolgono grazie alla vendita di questi crediti verdi, si va a finanziare la raccolta delle bottiglie di plastica che sono attualmente disperse nell'ambiente. La bottiglia attualmente in prevendita quindi può essere prenotata sulla piattaforma Indiegogo che è la piattaforma di crowdfunding che stiamo utilizzando. Quindi gli utenti possono andare a prenotare Rebo, pagarla già adesso e quando avremo finito lo sviluppo e la produzione verrà consegnata ai primi acquirenti che hanno creduto nel nostro progetto a partire da maggio. Grazie a tutti.